Benvenuti a Bella, il paese dell'accoglienza e dell'ospitalità. Da oltre dieci anni arrivano in paese artisti di fama nazionale e internazionale in occasione del Bella Basilicata Film Festival. La leggenda narra che all'epoca dei Normanni il paese fu salvato dai saccheggi e dalla distruzione grazie al sacrificio di una giovane popolana, Isabella. Il castello medievale, che ospitò anche la famiglia Caracciolo, è uno dei monumenti più importanti di Bella. Il punto di forza dell'agroalimentare è la zootecnia. Qui, da terreni incontaminati e con tecnologie innovative, si produce il latte di alta qualità a chilometro zero. L'arte sacra, come questo dipinto alle mie spalle del 1600, è uno degli elementi caratterizzanti delle quattro chiese di Bella. La biodiversità della flora caratterizza i nostri boschi, dove sono presenti alberi secolari, piante officinali e laghetti naturali. Grazie a tutti.